Ha colpito lui, subito, 5 minuti! Come gioca la Roma di Mourinho, fa strano dirlo, ma il gol è di pregevolissima fattura! Christensen di bala, attacca dal vertice, chiede l'1-2, lo tiene a Christante di bala, in mezzo Lukaku! 5 sul cronometro, Roma 1, Fiorentina 0, la firma è di Romelu Lukaku! A bloccare questo risultato, attenzione la Roma adesso però, che riesce con Christante, è un duetto che porta a centro area, il colpo di testa! E la rete di Lukaku, è stato Zaleski a sfuggire sulla destra e con un sinistro esterno a rientrare, a trovare il colpo di testa vincente di Romelu Lukaku! Al minuto 5, proprio mentre andavamo descrivendo una fase di stanca della partita, la Roma su una triangolazione, sull'out di destra ha trovato l'assist vincente di Zaleski e l'incornata di Lukaku, troppo ferma la difesa viola! Ferimento verso Christante che può provare a salire, l'apertura su Christensen, c'è Miraghi su quel lato, c'è già dentro Lukaku, è arrivato anche Pellegrini in area di rigore, ancora lo sviluppo giallo-rosso con la giocata da parte di Christante, il tocco dentro Lukaku, per l'1-0 Roma, ha colpito lui, subito 5 minuti, azione sull'out di destra, cross improvviso, scelta di tempo perfetta, vantaggio giallo-rosso, pescato sul filo del fuorigioco Lukaku. Di bala, Christante ancora di bala, subito dentro Lukaku! Roma in vantaggio, sono passati appena 5 minuti e i giallo-rossi con un'azione splendida, la sbloccano! Settimo in campionato per Romelu Lukaku! Christensen che qui dalla destra innesca di bala, grande 1-2 con Christante e Lukaku! Romelu Lukaku e la Roma in vantaggio con un'azione squisita! Sulla destra all'altezza del quinto minuto di gioco, Christensen e di bala, in mezzo anche Pellegrini, poi di bala con l'esterno sinistro dalla fascia destra, il cross è bellissimo, Lukaku deve solo spingerlo dentro, ingobbendosi all'altezza del limite dell'area piccola, come gioca la Roma di Murigno! Fa strano a dirlo, ma il gol è di pregevolissima fattura! Di bala, Christante di bala, lato corto, dentro per Lukaku! 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 Un'azione magnifica! Roma in vantaggio! Roma che prova a spingere anche sulla destra, Christensen, vicino a lui c'è di bala, il pallone è proprio per la cocia, finta con Christante, 1-2 di bala, dentro! Lukaku! Lukaku! Romelu! Lukaku! 5 minuti sul cronometro, la Roma mette la freccia, fa tutta Lukaku in area di rigore, ma il cioccolatino è scartato in precedenza dall'artista del pallone, Paolo Di Bala, Roma 1, Fiorentina 0, la firma di Romelu Lukaku! Quando riescono ad orchestrare questa bella azione, intanto Lukaku gol! La Roma in vantaggio! La Roma in vantaggio con Romelu Lukaku! Su questa bellissima trama, con tre tocchi, hanno sorpreso la Fiorentina dopo 4 minuti! Bellissima l'azione con Di Bala che ha scambiato al limite dell'area e poi quasi con l'esterno del piede sinistro è riuscito a pescare in perfetta solitudine a due passi da Terracciano Lukaku! Per Rasmus Christensen, zona grossa per Rasmus, uno contro uno con Miraghi, c'è Di Bala che si fa vedere, lo scambio con Christante, palla per Di Bala, dentro! Lukaku! 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 Che gol meraviglioso, Lassio! Azione pazzesca! Azione pazzesca della Roma! Che gol meraviglioso! E' una combinazione che stavamo anche invocando nel pre-partita di Bala per Lukaku. Roma ha subito un vantaggio al quinto minuto. Un cross alla Candela, il cross di esterno da destra con il piede buono, il tuffo di testa di Lukaku. Un gol straordinario, un gol straordinario. Un'azione semplicemente pazzesca! A centrocampo, ma la Fiorentina ora prova ad aprirsi, ma lascia così dei buchi in cui la Roma si può inserire. E c'è proprio un fraseggio ora con Di Bala che mette al centro Lukaku! Gol! Roma in vantaggio! Roma in vantaggio! Con Lukaku che di testa raccoglie un cross dal fondo di Paolo Di Bala e spedisce in rete la settima rete stagionale di Lukaku che porta in vantaggio la Roma a quinto minuto. Roma 1, Fiorentina 0.